Buongiorno, siamo a Taglio di Po, palestra Luciano Zanella, celeberrimo, grandissimo professore, sono con il coach Mauro Rocchi. Facciamo poi il bilancio, abbiamo la palestra piena, un bel po' di ragazze, Under 16 e Under 14 che si stanno distinguendo in giro per tutta la provincia, facciamo il bilancio. Il bilancio della stagione è positivo dal punto di vista numerico soprattutto perché sono entrate nuove bimbe e quindi abbiamo aumentato il nostro numero ed è una cosa bella e buona e positiva per tutti. Per quanto riguarda la stagione sta andando bene, in Under 14 abbiamo vinto il girone di qualificazione, in Under 16 siamo secondi, siamo arrivati secondi, sempre nel girone di qualificazione con una squadra molto giovane, praticamente con metà Under 14 e metà Under 15, quindi il futuro si prospetta a roseo diciamo. Abbiamo avuto un paio di infortuni importanti nei due capitani delle due squadre, nonostante tutto stiamo andando bene e vediamo di risolvere questi infortuni nel migliore dei modi e in tempi brevi. Ecco, state facendo una stagione, ormai da un paio di stagioni nella palestra piccola quanti tagli di posto, state aspettando anche voi il Palavigor, ciò nonostante siete riusciti ad abbellirlo, ci dicevi anche grazie dagli sponsor che vi stanno sostenendo? Sì, grazie agli sponsor che ci stanno sostenendo, siamo riusciti ad installare due tv con le quali una fa il segnapunti e una facciamo passare gli sponsor in modo da dare visibilità a chi ci aiuta e ai quali va il nostro ringraziamento. Per il resto la palestra questa è, ci dobbiamo adattare, non abbiamo né spazi né attrezzature per poter lavorare al meglio, però 4-5 anni ci arrangiamo come sempre. Per quanto riguarda il palazzetto dicono che settembre sarà pronto, sono 6 anni che lo dicono, io sono scettico. Ma questa è un'altra storia. Mauro, complimenti innanzitutto per la tua passione, perché poi tu da quanti anni è che fai il coach? 40 dai, solamente 40. Sì dai anche 45, però non diciamo l'età. Assolutamente, complimenti complimenti alle ragazze, complimenti a tutti quelli che vi sostengono e lunga vita la Polavoro. Sì, dai lunga vita la Virtus, speriamo che un domani possa ritornare quella serie B che l'anno scorso è stata Virtus e che per motivi logistici appunto non presenza di un palazzetto idoneo è stata dirottata a Chioggia con un altro nome. Quindi speriamo che questo progetto possa ripresentarsi. Ti faccio l'ultimo inciso, sei un PS. Ricordiamo che Taglio di Po in particolare ha una tradizione di pallavolo importante, ragazze che hanno vinto il campionato italiano, grande Vigor Bovolenta che è stato una nostra bandiera, il figlio stesso che è Alessandro e quindi diciamo anche grazie a Luciano Zanella visto che questa palestra è dedicata a lui. Certo, ricordo che l'anno scorso abbiamo vinto anche il trofeo Zanella che è dedicato a lui, l'abbiamo riportato qua a casa nostra. Quest'anno ci riproviamo ancora per quanto riguarda la bontà del lavoro, ci proviamo anche quest'anno, tre delle nostre ragazze sono in selezione provinciale ed è un grande onore. Grande Mauro, complimenti. Grazie mille a te.